La superbia, che cos'è? Lo abbiamo visto, abbiamo visto che non è la prepotenza, che non è il vantarsi, perché queste sono tutte conseguenze e la superbia è un'eresia, è un essere eretico. Cosa vuol dire? È uno scegliere, uno scegliere è un ricercare la verità. Lo abbiamo visto sotto il punto di vista filosofico, lo abbiamo visto sotto il punto di vista psicologico, ma in Occidente siamo impregnati della religiosità, di varie religiosità, e andremo a vedere in vari testi sacri chi è che ci insegna a non essere superbo e come, e cioè chi ci insegna a provare disgusto per noi, disgusto nel senso di dire, accidenti, guarda come sono stato, sono gioioso, dovrei essere nel modo in cui più mi piaccio.